ancora belli in yo-yo, fino in fondo sbaglia Cervi due volte, tre volte, peccato Cervi lo vedo attivo questa sera però è stato anche un po' sfortunato e poi Linnart invece qua va a segnare in transizione, altri due punti, parità su quota 24 una partita, non scherzo, gli dà, sicuramente lo condiziona nel suo gioco però qua è andato su, forte, Perich contro Cervi, un grande stoppata Linnart No, ha dormita, che dormita, accidenti, vedi abbiamo fatto una cosa bella esce dall'altra parte Kaukenas ancora, sotto per Cervi, l'ha capita Isli questa volta Linnart è già di là in contropiede a depositare due punti, c'era la schiacciata facile e gliel'ha data un po' troppo bassa Kaukenas Sbaglio il secondo Cincerini, 80-64 più 16 Reggio, 3 minuti 50 termina il match Linnart a 3, senza coscienza, prende tira e segna Parabola altissima per Nate Linnart, qua il tiro un po' Linnart ha fatto segno verso la tribuna, con la mano, come per dire, tanta roba e in effetti la Griss in Bondi questa sera è tanta, tantissima roba Linnart anche in chiave doppio confronto Ok, eravamo Ok, eravamo Ok, eravamo